Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Li siamo rivenuti al parco 2 giugno Insieme alle tartarughe Allora qua ci sono i colombi Che invadono la zona Abbiamo un po' di pesci rossi ragazzi Riuscite a vedere i pesci rossi Praticamente Questi qui sono colombi Forse ragazzi sono meglio le colombe Le colombe che Eh lo so Questi mo non ce li togliamo più Questi sono le tartarughe ragazzi Questi sono i colombi Ragazzi guardate Allora ci vediamo domani con l'unboxing Del lupo Inoltre le tartarughe si mangiano il pane Ci vediamo nel prossimo video E qui se riuscite a vedere ci sono alcuni pesci rossi Ci vediamo nel prossimo video Ciao dai colombi Dalle tartarughe Dai pesci E dagli altri animali Ciao